la verità, mi chiesce che fate, no, fate battute che il malone c'è, uno ha paura, la volta visto a parte dell'altra, la parte non va, non fa tanto male, però se la metti apposta, mi sta in posizione, quindi non mi ha così, perché ho messo apposto il market economico di un store, il market economico di un store, il market economico di un store, quindi cioè, più luce, la luce lento, dico, sono 10 secondi, ok?